Duro attacco al sindaco Brasiello da Forza Italia, il consigliere comunale di minoranza Raimondo Fabrizio, autore di numerose interrogazioni senza risposta, torna all'attacco, parlando di un'amministrazione che pensa solo a organizzare spettacoli all'auditorium a pagamento, senza affrontare le vere emergenze della città. L'ho sempre detto e lo ribadisco anche in questo momento, che finora, diciamo, al di là delle apparizioni fatte dal sindaco e dalla sua giunta ad oggi, provvedimenti seri, provvedimenti che stanno a cuore alla città ancora per risolvere una parte oppure risolvere dei problemini che ci sono, zero. Quindi lei ha fatto, si è reso protagonista di interrogazioni, interventi, che cosa chiede in particolare? Dov'è, secondo lei, che Brasiello non sta facendo quello che potrebbe fare? Finora ho depositato circa 20 interrogazioni alle quali però non ho avuto alcuna risposta, quindi questo proprio vuol dire che l'amministrazione, al di là del ruolo che non dà spazio ai consiglieri comunali, quali sono stati eletti dal popolo e quindi devono dare conto anche alla cittadinanza, però questo vuol dire proprio che non sta a cuore e non interessano i problemi seri della città. Voglio dire, per quanto riguarda, ultimamente si fanno solo concerti in questa città, poi quanto si devono risolvere i problemi seri, si appare, però non si discutono, non si prendono a cuore. Qual è l'emergenza più importante che secondo lei dovrebbe essere affrontata? Penso, vabbè, l'emergenza lavoro attualmente. A riguardo vorrei dire, al di là delle apparizioni fatte, ripeto, mi sembra che però anche in Consiglio Comunale non siano stati portati proprio argomenti per affrontare questi problemi riguardo alla città di Senna. E' veramente, penso, sotto gli occhi di tutti che siamo diventati un piccolo, neanche un paesino, dove ormai non c'è più niente con queste gravi crisi occupazionali e penso che questi siano i problemi da risolvere, non quelli di fare concerti e concertini all'auditorium. Tra l'altro tutti a pagamento e non so quali sia il rientro per il Comune con l'organizzazione di questi eventi.